All'epoca del castello precedente ha una profondità di 6 metri scavata direttamente ad una roccia e una capacità di 54.000 litriato. Questo va bene, il paraffetto in pietra è quello di un'ulto l'opera, la fase di retorno degli anni 30. La decorazione è però caduta invece degli anni 60. Però sono fanno crescita anche per raggiungere il sicuro. Il paraffetto di retorno degli anni 30 non è rifatto completamente anche tutto il paio di retorno degli anni 30 e il pietra. Questa non è originale. L'unica cosa che ha un esempio della movimentazione originale è la pennezza. All'epoca non c'era il suo protettore, c'era il tutto diretto. Quindi la pennezza rimane anche l'epoca non va a concentrare. Ma è l'acqua naturale come adesso, dalla parte superiore anche attraverso un piccolo foro che è stato fatto qua dietro. Allora, questo foro serve soprattutto a non allargare il pavimento quanto più o meno. Allora, l'acqua la raccogliamo proprio perché la citerna viene ancora utilizzata. All'interno ci sono le forze del piano di incerti, soprattutto che sono importanti.